Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi vi farò vedere una bustina dell'Avon che questa l'ho presa dall'Avon, vedete qua c'è la scrittura Avon, non so se si vede e praticamente questa è una bellissima busta, questi sono degli orecchini che si possono mettere nelle orecchie, lo sapremo, andiamo ad aprire, qua c'è la carta scoppia a balloncini, qua c'è la spugna, qua c'è la spugna per tenere gli orecchini, questi li metto da poi c'è questo cartoncino e gli orecchini, ci sono gli angioletti che si possono mettere anche dopo il Natale, che sono fuori Natale, che non si mettono proprio del Natale, ci sono le lecca legge, ci sono i cappellini, i pupazzi di neve, le stelline e dei diamanti, vedete che bello che si sono, al dietro ci sono dei viti e spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo canale, iscrivetevi al prossimo video, iscrivetevi al mio canale e lasciate un bel pollice in più se vi è piaciuto questo video, che farò un altro video, parlerò di tantissime altre cose, ciao! Ciao!